Nel 2014, durante una fase importante portata avanti dal demanio per la sdemanializzazione dei suoi beni, il comune di Teglio è entrato in possesso a titolo definitivo di questo bellissimo palazzo, Palazzo Piatti Reganzani, e si è assunto l'onere e l'onore e l'impegno di valorizzarlo. Dato il via dei lavori iniziati nel luglio 2014, con una cifra più o meno di 2 milioni di euro, abbiamo realizzato, a mio avviso, una ristrutturazione importante per il comune di Teglio e per tutto il territorio. La volontà dell'amministrazione, quando si è resa conto della bellezza e dell'importanza storica di questo palazzo, è stata fin da subito quella di pensare a una destinazione futura per tutto ciò che riguarda e riguardava la cultura in quel diteglio. Quale miglior destinazione se non la biblioteca e la possibilità data a tutte le associazioni di entrare qui dentro per promuovere la cultura e la storia del comune? È inaugurato il palazzo nell'ottobre 2016 e poi la sede della biblioteca a dicembre 2016. Abbiamo la conferma da parte degli utenti, dei cittadini, dei numerosi turisti che frequentano il paese, che la scelta è stata giusta ed indovinata, perché è un palazzo veramente molto molto apprezzato. La biblioteca oggi è pronta con tutte le sue bellissime sale. È la sede ideale per tutti coloro che vogliono passare un momento in pace. Grazie a tutti.